Il primo consiglio è aggredire i rivali. Il quadriano alla stampa rivela che Monti si è affidato per la sua campagna elettorale al guru americano della comunicazione David Axelrod, quello che ha seguito le campagne vittoriose di Barack Obama. Consigli che il premier ieri sera, ospite di Ballarò, ha eseguito a modo suo. Ho una cosa in comune con Grillo, la profonda sfiducia nella capacità della coalizione guidata da Berlusconi e della coalizione guidata da Bersani di governare l'Italia. Bersani e Berlusconi incapaci di governare, secondo Monti, un'equidistanza però solo apparente. Il premier infatti aggiunge che se vincesse Berlusconi sarebbe un disastro per l'Italia, mentre al PD ha dato atto di essersi affrancato dalla sua gloriosa storia comunista. Frase che non è piaciuta affatto alla componente democratica di provenienza popolare. Ma è al PDL che Monti dedica i suoi fendenti più potenti. La gestione delle candidature degli impresentabili è stata da matti, dice, fatta cinicamente con il bilancino, quanto al segretario PDL e il giudizio del premier lapidario. Alfano è spiritosissimo, ma in presenza del suo capo Berlusconi non è così vivace. Frasi che lascerebbero presagire un'alleanza con Bersani dopo il voto, ma Monti chiarisce parteciperò solo ad un esecutivo con chiaro orientamento riformatore, non credo che mi troverò a governare con vendola. E a proposito di governo, Monti ha già in mente le misure da varare nel primo Consiglio dei Ministri. Se io dovessi governare al primo Consiglio dei Ministri proporrei un disegno di legge costituzionale per il taglio alla metà del numero dei parlamentari, proporrei un disegno di legge per la riforma elettorale. Grazie. Grazie. Grazie.